Una ricetta che si trova spesso nei menù di capodanno, che fa un po' chic se si usa una buona bollicina, voi da quella base bianca dovete elaborarlo, renderlo personale e esaltare il gusto della nostra giuria. 30 secondi per prendere tutti gli ingredienti che vi servono in dispensa. Via! Io lo faccio classico per fiammetta. 300 g di riso vialole nano o carnaroli, 120 g di burro circa e 100 g di formaggio fresco spalmabile, quello sarà per la mantecatura. Un cucchiaio di parmigiano, mezza bottiglia circa di una buona bollicina italiana, metodo classico italiano. Per dare un po' di profumo, una fogliolina di mentuccia o nepitella, sarebbe ancora meglio. Mezza cipolla per il fondo. Stop! Ah, fragolina, un classico di asparago. 11 minuti di tempo per elaborare il vostro risotto. Via! Antonio, faccio una magia. Lui è mago. Ho fatto un corso di manipolatore. Eh sì. Ovvero? Cioè quello che fa sparire le cose, che viene a tavola. Sì, sono tanti anni che ho fatto il prestigiatore. Quindi la cipolla fai così e esce tritata. La cipolla adesso esce così e esce tritata, infatti. Comunque guarda che il prestigiatore che sa cucinare ha la serata in pugno. Esatto. Perché tu prima la fai mangiare, poi gli fai quattro trucchi. Cioè, a me... Come il tuo del pecorino. Beh, magari. Ti metti la fuori. Che cos'è qua? Uh, lo vetto. Hai capito? Eh, tanto mi piacerebbe, guarda. Che magia hai fatto per conquistare tua moglie? La magia che ho fatto per conquistare mia moglie... Ha fatto apparire una pelliccia. No, diciamo con la mia personalità. Diciamo la... Essere così allegro, una persona allegra, schietta. Insomma, è così. Allora, con allegria facciamo un risotto allo champagne. Come lo fai? Allora, adesso sto smiruzzando finemente questa cipolla, che ora adesso andrò a mettere in una padella. E la dolcirò con dell'olio d'oliva. E poi dopo aggiungerò del burro. Ok, quello è il fondo. Questo è il fondo. Poi ci fa a sparagi? Poi dopo no. Poi comincio a sfumare con lo champagne subito, fino a che si evapora. e poi dopo continuo con il burro e porto a cottura. Se è un libro da sfogliare. Porto a cottura e poi dopo gli asparagi nel frattempo vengono smollentati in pentolina acquazionata. Ok, quindi un risotto di asparagi sfumato con lo champagne. Mentre qua stiamo partendo con un fondo di burro e scalogno dove farai tostare il riso e poi ci metti la fragolina. Non farò tostare il riso, ma metterò prima la fragolina. Ah, quindi si disfa completamente, diventa una crema di fragole. Esatto, esatto. E poi sfumerò con lo champagne rosato. Ma domanda, sai che ci vuole un po' di tempo a cuocere il riso, no? Sì, ma io ho un metodo che uso normalmente, che è abbastanza rapido. Fai quel che vuoi. Questa cos'è? Spero bene. Panna da cucina. Panna da cucina. Qual è questo metodo? Che metto il brodo tutto insieme. Dunque lei la chiamano Super Anna, quindi io mi fido. Super Anna non sbaglia tutto. Anche io dovrei fare il risotto in un minuto. Ma non solo per questo. Oddio. Certo. Capito? Chiedo l'aiuto io stavolta. Perché volendo, eventualmente a casa, uno può anche cuocere la fragola a parte, brasarla, se vuoi dargli un po' di parte forte, poi già parte col risotto e poi la metti dentro. Però, questo è Super Simo, però ognuno la fa in modo suo. Super Flambo. Super Flambo. Ecco, io ho dato, ora dirò la mia ricetta, che è un risotto in bianco sfumato col vino italiano, bollicine italiane, metodo classico, dove poi metto un pochino o di nepitella o di maggiorana a profumare. E poi formaggio fresco a mantecare, così rimane neutro. Ma Fiammetta, che è l'esperta, adesso mi dà la ricetta sua. La tua ricetta è certamente perfetta. Vorrei solo spiegare perché uno dice risotto allo champagne, no? In Italia bollicine di alta qualità non c'erano, non si usava il méthode champagneoise. E quindi si diceva sempre allo champagne. Adesso, invece, si può dire giustamente un metodo classico, perché la qualità e la metodologia sono quelle tradizionali. È però comunque leggermente diverso, perché la caratteristica dello champagne è di essere pochissimo vinoso, cioè non ha fondo vinoso. E quindi è particolarmente... E questo non è dovuto al metodo, è dovuto anche al metodo, ma anche al territorio, al grande freddo. Ecco, quindi è un molto spirituale... Allora, visto che abbiamo parlato tantissimo di bollicine, spesso, non l'abbiamo mai spiegato. Ad esempio, mia mamma non sa la differenza se avete una bottiglia che esplode il tappo e champagne. Allora, il metodo classico è quello dello champagne, è un vino che viene fermentato in bottiglia, girando la bottiglia, si chiama remouage in francese, con l'inclinazione verso il collo, si formano le muffe lì, poi alla fine si passano nell'azoto liquido, si congelano le muffe, si fa esplodere la bottiglia e poi si rabbocca. Quindi cresce in bottiglia, mentre lo spumante cresce in silos raffreddati e poi viene imbottigliato successivamente. Allora, tu sai aprire la bottiglia dello champagne? Con la sciabola, con la sciabola, certo che lo faccio. Con la sciabola, con la sciabola. Ragazzi, quello è un'altra magia che ti risolve la serata. Lo sai, eh? Sì, una volta... Certo, potete si rompere in fisso quando vuole... Però, per dire... Però... Capito? Perché poi tanti lo fanno... Cioè, ho visto gente fare un po' fighetto. Anche col bicchiere, poi. Prendere anche in discoteca, prendere il bicchioteca e farlo dalla parte della lama. Esatto. E quindi ho visto spaccare bottiglie. Mamma mia, io ho visto anche gente a pronto soccorso. Però bubriaca. Eh? Bubriaca. Sì, sì. Più lo scemo che non abbia uno, lo abbia, lo abbia, lo abbia io! Ok. Quello che rimane la bottiglia come lo usiamo qua sul blog, Chiara? Allora, non in maniera così tradizionale, un po' vintage con fragole, che già ha risotto allo champagne, comunque un piatto tradizionalmente un po'... Retro. Un po' retro, esatto. Magari o abbinato a qualche crostaceo, ad esempio con gli scampi. che sta molto bene, classico però abbastanza anche questo, oppure versione più montanara, più casalinga diciamo così, con provola affumicata e speck. Lo champagne? Lo champagne, sì. Che poi in realtà adesso si chiama risotto. Sì, sì, sempre risotto. Sempre risotto, però molte volte appunto si dice champagne, però poi non è champagne. Sì, spesso sta risotto allo champagne è fatto con un prosecco. Vuoi chiedermi cosa ci faccio io con dello champagne che avanza? Ma ci metti il kirk del cassis dentro e te lo bevi e ti fai il kirk royal. No, dicelo, dicelo. No, niente, lo bevo. Ah, ok. Mettelo sapendo. Lo mettiamo a sto riso? Sì. No, poi è troppo presto, all'ultimo, quando suona il tempo. No, ma lei è abituata ad andare di corsa, perché lei è un'ex maratoneta. Ah. E poi c'è un'altra cosa. E ora io voglio vedere un passo, visto che hai messo il risotto, te lo giro io. Grazie. Tu balli. Danze caraibiche. Eeeh. E tango. Argentino però, eh. Tango argentino. Specifichiamo. Io do l'aiuto anche senza sia il campanello su questo, guarda. Se mi vuoi insegnare un passo, sono a tua disposizione. Solo sai cosa? Che il tango argentino lo devi ballare con la persona con la quale condividi. E chi è la persona con cui balli. E che soprattutto ami. Va bene. Allora, c'è un ballo che puoi farlo con chi non ami? Ma come no? E allora, Riccardo Rossi si presta a fare un passo di ballo. Ti ringrazio. Eh, ti voglio bene anch'io. Anch'io, è vero? Prego, prego. No, no, te lo giro io il risotto. Prego, prego. Me lo puoi sfumare con il champagne? Certo, certo. Abbiamo anche la musica? Beh, ma certo, no? Che ci vuole. Una salsa. Una salsa. Facciamo la salsa. Allora, Fiammetta fa la base musicale. Adesso facciamo la salsa di pomodoro. Fammi una base musicale, Fiammetta, dai. No, sono scarsa. Allora, fammi vedere i passi base della salsa. Guarda, il passo base della salsa, parti col destro dietro. Destro dietro, sì. Destro. Destro dietro. Destro. Ci sta? Dietro. Sì, ma no, tu hai fatto sinistro avanti per tenere il destro dietro. Ok. Chiudi, chiudi. Chiudi. Destro dietro. Poi. Con più sensualità. Centro. Sì. Sinistro avanti. Sinistro avanti. Centro. Prova ad accelerare. Vai. Prova. Così. Dai. Va bene? Sempre in buon e giusto. Complimenti. Ecco fatto, abbiamo tolto la corsa. Grazie per il supporto. Riccardo, siamo sempre amici? Sempre. Antonio, qua non balliamo. Qua risottiamo. Hai messo l'asparago a sbollentare nell'acqua? Sbollentare nell'acqua salata, sì. Adesso io lo tirerò fuori. Senti, io ho fatto ballare lei. Se vuoi giro anche il tuo risotto, se mi fai un numero magico. Il numero magico lo facciamo dopo o lo facciamo subito? Dopo, dopo. Perché adesso non abbiamo più. Riccardo ha paura. Pure quello. Facciamo spa. Lo sai fare quel gioco della cravatta che la taglia? No, questo è un tazzardà. Perché Riccardo ha una cravattina molto carina. Siccome conosco il trucco di quel gioco, non si può fare. Cipolla tritata sottilissima, è anche opzionale la cipolla in questo risotto. E si fa stufare con il burro in casseruola. Molto, molto dolcemente. Perché in questo caso, se non la cuocete bene, si sente l'odore alla fine. Poi si mette il riso. Si tosta a fuoco piuttosto alto fino a che non comincia ad aderire il mestolo alla casseruola. Lì chiede il vino. Quindi due bei bicchieri di vino, fuoco alto in modo che evapora bene l'alcol. E poi si comincia a bagnare con acqua calda, non salata. In questo caso niente brodo. Va portata a cottura così rimangono i profumi del vino. E alla fine si mantica con il formaggio fresco spalmabile, che può essere anche uno stracchino o una crescenza. E le foglioline di nepitella o di mentuccia, maggiorana. Qualcosa che dia soltanto un tono profumato. Finito così con un cucchiaio di grana alla fine. Ah, salone. Due minuti scarsi. Scusate. Infatti due minuti scarsissimi. Scarsissimi, sì. Sono scarsi tanti, sì. Vabbè, alla fine sono due ricette semplici. Cioè il tempo serve per il risotto, ma il companatico fragole per Anna e asparago per Antonio non hanno bisogno di tantissima preparazione. Insomma, anche perché se si parla di risotto e lo champagne, giustamente c'è stata fatta solo la giuntina vegetale. Molto bassa la fiamma, sì. Si danno anche consigli tra loro. Ma che balleranno? Certo, sì. Lui la taglia in tre. La se la divide, balla un po' con uno, un po' con uno e poi la ricompone. Allora, signori miei, lei ha già il piatto pronto e decorato lì davanti. Antonio, fai una magia e farlo arrivare anche tu, perché fra un 30 secondi circa... Ah, sì? È un po' bassa la fiamma. Ma guarda, sotto a questo... Aspetta, aspetta, Antonio, guarda se sono bravo, eh. Giuro. Con la sola in posizione delle mani, ti tiro fuori un fornello doppio che se lo usavi dall'inizio avevi la doppia fiamma. Ah, sì. Ecco qua. Che stai a fare? Eh, sto a fare una cosa strana. Sto a parlare romano anch'io. Sì, è una cosa molto strana. Sì, fai sparire il riso nella crema d'asparagi. Esatto. E poi? E poi adesso gli do una scolatina per dargli il colore. Ecco qui. E che rimane con il verde, con il suo verde. E lo insiererò, se Dio vuole. Stop al tempo! Eh, stop al tempo. Oddio. Questo qua, questo qua. Allora, questo facciamo così. La vedo dura. Ma se volete partire anche con la cipolla, rifastiamo così. No, 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 abbiamo finito. Dai, risottino sotto. Anna, su! Abbiamo finito. Ah, no. Dai, hai messo proprio un goccio di panna appena appena. Appena appena, sì. Ecco qua. Allora, aspetta un attimino, è completo. No, no, tranquillo, sono a vostra disposizione. Ah, vuoi farelo tu? Intanto io prendo quella io. No, non lo faccio io. Se voglio il piatto... Ah, vuoi il piatto proprio, direttamente. Sì. Allora, allora. Tre, due, uno... Aspetta che... Basta, basta, basta. Su, togli questo. Togli questo apposta. Mancano due cose. Eh, lo so, tesoro, ma... Ammoniti. Ammoniti. Stop. Dai, mettilo su. Waz. Allora. Sono troppo buono. Sono troppo buono.